Qualcuno ha provato a occultarlo. Le gemelle si riuniscono prima di intraprendere il cammino dei vivi. È stato alterato. Come quella... quella cosa in Messico. Dovrebbe condurre al prossimo indizio. Vai, io resto qui. Vedo se c'è qualcos'altro. D'accordo. Le gemelle. V... E... John, ho trovato il Tempio. Grandioso. Accidenti. La Trinità è già qui e sta provando a entrare. Mi avvicino per dare un'occhiata. La bomba esterna. La bomba. Operazione lupo solitario in corso. Camion in marcia. Perchè tanta fredda? Perchè tanta fredda? Il dottor Dominius è qui in terreno. Mi basta come spiegazione. Sì, comandante. Scusi, signore. I droni erano più pesanti del previsto. E taglienti. La barcha è a posto, comunque. Fortuna che sei qui. Abbiamo un problema. Ancora il generatore. Ci penso di un'occhiata. Vuole che cerchiamo sott'acqua. Vuole che cerchiamo dappertutto. Evidentemente finora ci è sfuggito qualcosa. Ok. Qui si ci danno molto a giù. Brutto più sentimentale. Molto brutto. Comando, qui stazione da tracco. Operazione lupo solitario in corso. Droni lanciati. Sono cinque miglia a valle. Il segnale è forte. Ti farò sapere se scoprono qualcosa. Chiudo. Aperto il comando. Aperto il comando. State vicini. Avertite se vedete qualcosa. Arrattata. Spendete tutti i lati. Ok. Mettiamoci all'opera. Spendete tutti i lati. Grazie.